Il testo è tratto dal libro Quaderni del 1944 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. 14 luglio 1944. Dice Gesù Ascoltami bene, figlia, perché la lezione di oggi è molto difficile. L'uomo, ogni uomo, ha in sé l'immagine che Dio ha ideato per l'uomo. Ma non tutti gli uomini hanno in sé la somiglianza con Dio. È detto, Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Come può dunque essere che taluni abbiano la sola immagine? E come possono avere l'immagine di Dio, se Dio è incorporeo, purissimo spirito, luce infinita e sempiterna, pensiero operante, forza creativa, ma non corpo. Quanta ignoranza vi è ancora fra i credenti? Ignoranza conseguente e ignoranza non conseguente. È ignoranza conseguente quella che viene da una istruzione veramente primordiale, da una istruzione religiosa che si ferma all'ABC della religione, causata da lontananza da centri religiosi o da, il che è molto colpevole da parte del colpevole, da non curanza di ministri che non consumano se stessi nel far conoscere Dio ai propri agnelli, pastori idoli che io guardo con volto severo. Questa ignoranza non leva il cielo a coloro che la posseggono. Perché io sono giusto e non faccio accusa ad uno spirito, se so che l'ignoranza di costui non è volontaria. Ma anzi, lo guardo per la fede, e se vedo che si è retto, con quel filo di scienza di Dio che gli hanno dato, come avesse molto saputo, lo premio come premio un dottore santo. Non è sua colpa se poco sa. È suo merito se del poco sa farsi una forza in queste poche, lineari idee. Dio è. Io sono suo figlio. Mi rende tale l'obbedire alla sua legge. E ubbidendo giungerò a possedere il Dio in eterno, per i meriti del Salvatore che mi ha reso la grazia. Lo Spirito di Dio si sostituisce con idee di luce nell'illuminare il credente che il suo pastore trascura o che è in zone dove raramente è il pastore. Ma vi è anche l'ignoranza non conseguente. Quella di chi, potendo, non vuole istruirsi o, dopo essersi istruito, trascura e torna ignorante, perché così vuole che sia per comodo suo. Dimenticare la verità è necessario a chi vuol vivere da brutto. Questa ignoranza io la maledico. È uno dei peccati che attirano il mio sdegno senza perdono. Perché? Perché è ripudio a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Un figlio che non vuole conoscere nulla del Padre, o che conoscendolo vuole, e giunge, a dimenticarlo. Che figlio è? Ribelle, non dico alle voci soprannaturali, ma anche alle voci del sangue. Inferiore perciò ai bruti che, finché sono, per età, sottoposti al Padre, lo riconoscono e lo seguono. Quale ribellione sia poi quella rivolta ad un Dio che è Padre, per la carne e il sangue, e per l'anima e lo spirito, lascio a voi pensarlo. Ripudiano il Figlio perché, senza pensiero per il sacrificio del Dio Figlio, che si è incarnato per portare la verità all'uomo, oltre che la redenzione, annullano in sé ogni voce di questa verità, per vivere nella loro menzogna. Ripudiano lo Spirito Santo perché la verità è sempre unita alla scienza ed è la scienza che, con la sua luce, vi fa comprendere le verità più sublimi. Io l'ho detto. Io me ne vado e molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non siete capaci di comprenderle. Ma quando sarà venuto lo Spirito di verità, vi ammaestrerà d'ogni vero e compirà l'opera mia di Maestro, rendendovi capace di capire. O Eterno, Divino Spirito, che così ci ami che per gloria del Padre sei sceso a Purissimo Sponsale per generare il Redentore e che, essendomi uguale, mi sei divenuto Generatore, tu procedente da me e dal Padre. O Eterno, Divino Spirito, che per gloria del Figlio hai effuso il tuo fuoco e continuamente le fondi perché la parola sia compresa e le creature da uomini divengano Dei, vivendo secondo la grazia e la parola. Mistero del nostro amore Inconcepibile poema che solo nel Paradiso sarà conosciuto in pieno dagli eletti. Io l'ho detto. Sarà perdonata ancora la bestemmia contro di me, ma non sarà perdonato chi bestemmia contro lo Spirito Santo. Che bestemmia viene usata verso di Lui? Il disamore che si esplica col rifiutare di accogliere la verità illuminata da esso. E torniamo al principio del dettato. L'ignoranza diffusissima fra i credenti dà idee errate sulla immagine con Dio, non immagine fisica. Dio Spirito non ha volto, non ha statura, non ha struttura, ma l'uomo ha l'immagine che per l'uomo Dio creatore ha ideato. Non aveva certo bisogno il potente e l'infinito di ottenere l'uomo da una evoluzione secolare di quadrumani. Il quadrumane fu quadrumane dal momento che fu creato e fece i primi lazzi sugli alberi del terrestre paradiso. L'uomo fu l'uomo dal momento che Dio lo creò dal fango e, cosa non fatta per nessun altro creato, gli alitò lo Spirito in volto. La somiglianza con Dio è in questo Spirito eterno, incorporeo, soprannaturale che avete in voi. È in questo Spirito, atomo dell'infinito Spirito, che rinchiuso in angusta e precaria carcere, attende e anela di ricongiungersi alla sua sorgente e condividere con essa libertà, gioia, pace, luce, amore, eternità. L'immagine persiste anche laddove non è più somiglianza. Poiché l'uomo rimane fisicamente tale agli occhi degli uomini, anche se agli occhi di Dio e dei soprannaturali abitatori dei cieli e di pochi eletti della terra, appare col suo nuovo aspetto di demone. Col suo vero aspetto, da quando la colpa mortale lo priva della somiglianza con Dio, non avendo in lui più vita lo Spirito. L'uomo senza la grazia che la colpa leva non è più che il sepolcro dove si potre fa lo Spirito morto. Ecco perché alla risurrezione della carne e gli umani, pur avendo tutti una comune immagine fisica, saranno dissomigliantissimi fra di loro. Di aspetto semidivino i beati, di aspetto demoniaco i dannati. Allora trasparirà all'esterno il mistero delle coscienze. Terribile l'uomo tanto più si rende somigliante a Dio, quanto più vive nella grazia e accresce questa, di per sé già infinita, coi meriti del suo vivere santo. Occorre sforzarsi a raggiungere la perfezione della somiglianza. non la raggiungerete mai perché non può la creatura essere simile al creatore, ma vi avvicinerete per quanto vi è concesso a questa soprannaturale bellezza. Io l'ho detto. Siate perfetti come il Padre mio. Non vi ho messo limite di perfezione. Più voi vi sforzerete a raggiungere questa perfezione e più i diaframmi dell'umano cadranno come muro assalito da forze vittoriose e diminuiranno le distanze e crescerà la vista e aumenterà la capacità di intendere, comprendere, vedere, conoscere Dio. Ma occorre tendere ad essa con tutte le vostre forze, con tutte le vostre generosità, senza voltarsi indietro a guardare ciò che si lascia, senza fermarsi mai, senza stancarsi. Il premio giustifica l'eroismo perché il premio è tuffarsi nel godimento dell'amore, avere perciò Dio come lo avrete in cielo. O beatifica unione e possesso meraviglioso, è vostro, figli fedeli, venite e saziatevene. Mi ero prefissa di scrivere questa mattina la continuazione della mia gioia di ieri sera, ma appena iniziato il giorno Gesù ha dettato e perciò lo faccio solo ora. Dopo aver fatto l'ora di agonia con Gesù nell'orto mi sono messa giù quieta pensando alle belle mani della mia santina. Non potevo, del suo aspetto, pensare che alle mani, non avendo visto che quelle. E, come una bambina, avevo un grande desiderio di vedere se è proprio come appare nei ritratti annessi alla sua autobiografia. Ma non speravo di vederla. Invece, come un quadro che si illumina piano piano, ella si è svelata. Dopo le mani, le braccia, un poco ostese verso me, come per gesto d'abbraccio, e poi il corpo e ultimo il volto. Sì, i ritratti, i primi specialmente, perché ora, tocca e ritocca, l'hanno quasi svisata, le somigliano. Però trovo che la fanno più rotonda d'ovale come non sia. Io la ritrovo molto nell'ovale smagrito degli ultimi momenti. Forse perché il viso spiritualizzato che ho visto pareva consumarsi nella fiamma luminosa che sprigionava. Sorrideva con la bocca e con gli occhi, molto bella e giovane, con due fossette agli angoli della bocca e due occhi di un grigio tendente al per vinca bellissimi. Non mi è parsa molto alta, super giù come è Paola, ma lo sembra di più per l'abito lungo e per il portamento dignitoso, regale direi. non aveva mantello né crocifisso coperto di rose. Sembrava come sarà stata durante le sue occupazioni monastiche col solo e semplice abito marrone scuro e soggolo bianco sotto il velo nero. Ha proprio le mani più lunghe di quelle di Maria ma molto belle. Si è lasciata guardare con un sorriso suave e pregare con un sorriso di promessa. Poi se ne è andata e a me non è rimasto che il ricordo e un tenue profumo nell'aria. Penso che a me per me sono apparsi ben pochi santi. San Giovanni molte volte. San Giuseppe una volta in gennaio visione del paradiso e più volte negli orrendi giorni dal 10 al 24 aprile. Poi San Francesco una volta qui ai primi di maggio mi pare e ora Santa Teresa del bambino Gesù. Gli altri li ho visti in visione o perlutti. Ah no anche Sant'Agnese quando mi ha dettato le sue parole e basta a certuni parrà che ne vedo molti ma non mi pare inoltre un anno di missione speciale dirò così ne ho visti per me soltanto cinque sei se vi unisco Nennolina e quelli che prego sempre San Francesco e Teresina dopo oltre un anno di dettati e nessuno dei due come generalmente si raffigurano sono molto contenta sa ieri sera mentre la guardavo le dicevo un petalo un petalo solo delle tue rose per dirmi che mi viene fatta grazia e non sarei stata per nulla stupita di trovarlo per davvero invece ho sentito solo dalla parte dove era la santa un lieve odore di rosa dopo che ella se ne era andata lei e San Francesco sono stati i miei maestri quando cominciavo a ricercare Gesù non ho avuto per degli anni altre guide e ora che penso essere prossima alla fine anzi al principio sono molto felice di sentirme li vicini mi aiuteranno a comprendere Gesù la serenità è ancora in me nonostante fisicamente soffra tanto non è bello che in preparazione della festa del Carmine io abbia avuto la visita di Maria regina del Carmelo e della Santina del Carmelo penso che il 16 luglio 1897 la comunione alla Serafica Teresina ne fu portata come viatico e che fu salutata dal canto che io canto spesso Tu che il mio nulla ben comprendi o Dio di abbassarti non temi fino a me sacramento adorato nel cuor mio scendi nel mio cuor che anela a te vo che la tua bontà dolce signore mi faccia dopo ciò morire d'amore la voce ascolta del mio grande zio discendi nel cuor mio io allora avevo pochi mesi quattro ora forse ne avrò quattro da vivere da attendere la vita ma non ho gli stessi sentimenti di Teresa sebbene più imperfetti la stessa sete di eucaristia lo stesso desiderio di morire d'amore la stessa unica speranza Gesù vorrei non per desiderio di umana lode ma per amore di Dio essere come la santina faccio quanto posso oh no non mi pento d'essermi data all'amore anche io non me ne pento mi spiace solo d'essermi cidata troppo tardi e molto male e mi dolgo solo che l'amore mi consumi così lentamente io non ho voce per farmi udire dal mondo ma se ne avessi vorrei dire a tutti non abbiate paura di darvi a Gesù all'amore suave misericordioso egli ripaga con tali dolcezze la nostra donazione che non vi è parola atta a spiegarla ogni raffronto è riflesso di luce tremolante di un lumino rispetto al grande sole e per le piccole anime che hanno peccato e ora tornano a dio o per le piccole anime che non sanno fare grandi cose non c'è che questa via da seguire per raggiungere coloro che non errarono o che seppero toccare le vette dell'eroismo penitenziale darsi all'amore e lasciare che lui faccia faccia ciò che vuole di noi e in noi ci farà fare sempre molto di più di quello che faremmo da noi anche con molti anni di vita austera e generosa l'amore certo che le cose straordinarie che mi accadono non sono certo monete di conquiste per me ma anzi contro monete perché possono indurmi alla superbia e io le devo ricevere con umiltà con vero riconoscimento che non sono per me ma per tutti io sono soltanto il canale per cui scendono e do l'obbligo di santificarmi sempre più per esser degna di riceverle senza profanarle con un contatto impuro un dono perciò non scevro di pericolo mentre quando amo con tutte le mie forze e per amore dell'amore mi sacrifico oh allora sono sicura di non errare anzi sarà proprio questo amore la soluzione mia sulle imperfezioni che posso avere in ogni campo che cresca 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 per essere la mia salvezza eterna signore non ti chiedo la gloria delle visioni ma ti chiedo la grazia di amarti sempre più che di Grazie a tutti